ciao bambini come state io sono sono tanti per la tè di pera sono un fambo queste spalle di sta cercando mi vuole cambiare la lettera qua mi vuole correggere io io ho una p di pera per la vedete la mia p lei vuole prendersela e da b una b di bear orso ma ma io non voglio no vi aiutate a ripetere le mie parole bear orso bear ancora bear e adesso la parola pera di nuovo per e che bravi che siete ciao io io me ne vado perché se si arriva a me se spalle sono guai